Easy Go Sì, stavo pensando che non ci facciamo una sigaretta. Dai, forza! Oh, niente male! Forte, come piace a me. Questo tè è buono sia da fumare che da bere. È perfetto anche per curare qualsiasi malattia e risolvere i problemi coniugali. L'odore è molto particolare. A me piace molto. Ai miei ragazzi non dispiace, non più. Il tè è buono. Però mi fa venire un sonno. Ascolta, bandito, sai che ti dico? Rimani qui con noi. La vita qui non è male. Possiamo parlare, mangiare e bere tutto quello che vogliamo. Domani ti troveremo una barata. Nel frattempo mi faccio un pisolino. Solo una dormitina. Ancora sono fallati. È maniglia. Buon appetito!